numero 4 questo forno ventilato smeg modello sf 800 a o da 60 centimetri è un po' particolare per via della sua estetica infatti è realizzato con finitura coloniale di color a transite e dettagli in ottone anticato è dotato di programmatore con fine cottura a spegnimento automatico e segnalatore acustico la temperatura di cottura è regolabile dai 50 ai 250 gradi in dotazione troverete una bacinella smaltata profonda 40 mm e una griglia con stop posteriore numero 3 forno elettrico con girl della capacità di 70 litri multifunzione con timer e regolazione della temperatura tra i 50 e i 250 gradi celsius ha una potenza di 3000 watt con classe energetica il vetro è di tipo eclipse la porta è con pannello maniglie e manopole sono di color effetto inox le dimensioni del forno sun 597 x 588 x 548 mm ha un ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 forni da incasso elettrico smeg con classe efficienza energetica ha una capacità utile di 70 litri a 6 funzioni di cottura e 5 ripiani le sue dimensioni sono 59,7 x 59,2 x 54,8 cm dotato di spia termostato e regolazione della temperatura elettromeccanica la cavità è in smalto ever clean mentre i ripiani sono telai in metallo ha una griglia con stop una griglia inserto bacinella e una bacinella smaltata di 40 mm numero 1 forno da incasso pizza ventilato smeg termo ventilato con speciale funzione per la cottura della pizza su pietra refrattaria la pietra può essere usata anche per la cottura di pane torte focacce o altro dispone di 8 funzioni di cottura disponibili e viene fornito di griglia con stop bacinella smaltata di 40 cm e degli accessori per la pizza ossia pietra refrattaria coperchio e paletta ha un ottimo rapporto qualità prezzo trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione